È stato inaugurato il nuovo asilo nido di Via Coninzugna all'Isola Sacra. La struttura ospita 70 bambini ed ha al suo interno tre sale gioco, tre sale mensa, tre sale per il riposo e tre ambienti per il cambio dei bambini. Tra i presenti all'inaugurazione il sindaco Esterino Montino, l'assessore ai lavori pubblici Angelo Carroccia, alla scuola Paolo Calicchio, al sociale Anna Maria Anselmi, il vice sindaco Ezio Di Genezio Pagliuca, la presidente del consiglio Alessandra Vona e la consigliera regionale Michela Califano. Il sindaco Esterino Montino ha ringraziato tutti per il lavoro svolto, dai lavori pubblici alla scuola e all'ambiente. Dopo il grave incidente di quattro anni fa, che ha visto il crollo del cemento armato del solaio di copertura e la revoca dell'appalto alla ditta precedente, si inaugura una scuola all'avanguardia, spaziosa, colorata e nella quale viene prestata grande attenzione per i bambini. Oltre ad avere spazi per il gioco, la scuola è infatti dotata anche di ampi giardini, dove a breve saranno piantati alberi a protezione dei rumori degli aerei. L'assessore ai lavori pubblici Angelo Carroccia, durante l'inaugurazione, ha annunciato che la prossima settimana partirà la realizzazione del parcheggio nel terreno a fianco alla scuola. Dopo poco si aprirà anche il cantiere all'incrocio tra via Coninzugna e via Padovani per la costruzione di una nuova scuola materna ed elementare su due piani. Successivamente, sempre su via Coninzugna, si sta progettando la realizzazione di un altro plesso scolastico. Per l'assessore alla scuola Paolo Calicchio, un comune che malgrado le grandi difficoltà riesce ad aprire luoghi destinati ai ragazzi, è simbolo di un'amministrazione viva, che pensa al proprio futuro e a chi ha più bisogno. Investire sulle scuole è per l'amministrazione mettere le basi per un futuro più solido in una città come la nostra. L'inaugurazione della nuova scuola di via Coninzugna a Fiumicino, realizzata grazie a un importante cofinanziamento regionale di 500.000 euro, è il primo passo di un'importante collaborazione, dichiara il consigliere regionale del PD Lazio, Michela Califano, che aggiunge. È stato infatti perfezionato il passaggio di un terreno regionale, sempre su via Coninzugna, che sarà destinato dall'attuale amministrazione comunale a un altro edificio scolastico, creando così un importante polo. Nell'ultimo bilancio regionale, conclude Califano, abbiamo investito importanti risorse per aiutare i comuni ad investire nell'istruzione e nella formazione, segni tangibili di una politica che punta sui giovani. Grazie.